le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 31 dopo cinque mesi di cuccagna pinocchio con sua grande meraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci lo tiravano dodici pariglie di ciuchini tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame alcuni erano bigi altri bianchi altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine ma la cosa più singolare era questa che quelle dodici pariglie ossia quei 24 ciuchini invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro da soma avevano ai piedi degli stivali da uomo di vacchetta bianca e il conduttore del carro figuratevi un omino più largo che lungo tenero e untuoso come una palla di burro con un visino di mela rosa una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di paese dei balocchi di fatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia stavano male stavano pigiati non potevano quasi respirare ma nessuno diceva oi nessuno si lamentava la consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri né scuole né maestri li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi né gli strapazzi né la fame né la sete né il sonno appena che il carro si fu fermato l'omino si volse a lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo dimmi mio bel ragazzo vuoi venire anche tu in quel fortunato paese sicuro che ci voglio venire ma ti avverto carino mio e nel carro non c'è più posto come vedi è tutto pieno pazienza replicò lucignolo se non c'è posto dentro mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro e spiccato un salto montò a cavalcioni sulle stanghe e tu amor mio disse l'omino volgendosi tutto complimentoso a pinocchio che intendi fare vieni con noi o rimani io rimango rispose pinocchio io voglio tornarmene a casa mia voglio studiare voglio farmi onore alla scuola come fanno tutti i ragazzi per bene buon protifaccia pinocchio disse allora lucignolo dai retta a me vieni con noi e staremo allegri no 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 vieni con noi e staremo allegri gridarono altre quattro voci di dentro al carro vieni con noi e staremo allegri urlarono tutte insieme un centinaio di voci e se vengo con voi che cosa dirà la mia buona fata disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlare nel manico non ti fasciare il capo con tante melanconie pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera pinocchio non rispose ma fece un sospiro poi fece un altro sospiro e poi un terzo sospiro finalmente disse fatemi un po di posto voglio venire anch'io i posti sono tutti pieni replicò l'omino ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a cassetta e voi e io farò la strada a piedi no davvero che non lo permetto preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini gridò pinocchio detto fatto si avvicinò al ciuchino marritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare ma la bestiuola voltandosi a secco gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena ma l'omino non rise si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro intanto pinocchio rizzatosi da terra tutto infuriato schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi smesso di ridere cominciarono a urlare viva pinocchio e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgropponata scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia allora grandi risate da capo ma l'omino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio poi disse al burattino rimonta pure a cavallo e non aver paura quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse povero conzo hai voluto fare a modo suo ma te ne pentirai pinocchio quasi impaurito guardò di qua e di là per conoscere da quale parte venissero queste parole ma non vide nessuno i ciuchini galoppavano il carro correva i ragazzi dietro al carro dormivano lucignolo russava come un giro e l'omino seduto a cassetta canterellava fra i denti tutti la notte dormono e io non dormo mai fatto un altro mezzo chilometro pinocchio sentì la fioca che gli disse tiello a mente grullerello i ragazzi che smettono di studiare voltano le spalle ai libri alle scuole ai maestri per darsi interamente ai malocchi ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata io lo so per prova e te lo posso dire verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io ma allora sarà tardi a queste parole vi sbigliate sommessamente il burattino spaventato più che mai salto giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso e immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva e piangeva proprio come un ragazzo ehi signoromino gridò allora pinocchio al padrone del carro sapete che cosa c'è di nuovo questo ciuchino piange lascialo piangere riderà quando sarà sposo ma che forse gli avete insegnato anche a parlare no ha imparato da sé a borbottare qualche parola essendo stato tre anni in una compagnia di cani ammaestrati povera bestia via via disse l'omino non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciucho rimonta a cavallo e andiamo la nottata è fresca e la strada è lunga pinocchio obbedì senza rifiatare il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei balocchi questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo la sua popolazione era tutta composta di ragazzi i più vecchi avevano 14 anni i più giovani ne avevano otto appena nelle strade un'allegria un chiasso uno strellio da levar di cervello branchi di monelli dappertutto chi giocava alle noci chi alle piastrelle chi alla palla chi andava in velocipede chi sopra un cavallino di legno questi facevano a mosca cieca questi altri si rincorrevano altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa chi recitava chi cantava chi faceva i salti mortali chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria chi mandava il cerchio chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta chi rideva chi urlava chi chiamava chi batteva le mani chi fischiava chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo insomma un tal pandemonio un tal passeraio un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste viva i balocci invece di balocchi non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole abbasso la rinmetica invece di aritmetica e altri fiori consimili pinocchio lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran bara onda e in pochi minuti come facile immaginarselo diventarono gli amici di tutti chi più felice chi più contento di loro in mezzo ai continui spassi agli svariati divertimenti le ore i giorni le settimane passavano come tanti baleni oh che bella la vita diceva pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in lucignolo vedi dunque se avevo ragione ripigliava quest'ultimo e dire che tu non volevi partire e pensare che ti ha rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole lo devi a me ai miei consigli alle mie premure ne convieni non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori è vero lucignolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te mi diceva sempre non praticare quella birba di lucignolo perché lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male povero maestro replicò l'altro tentennando il capo lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi ma io sono generoso e gli perdono anima grande disse pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina pinocchio svegliandosi ebbe come si sol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore